Andremo a dare delle pillole di informazioni proprio riguardo all'allenamento del corpo libero, riscaldamento. Massimiliano, come facciamo correttamente le trazioni? Allora, innanzitutto spieghiamo che cosa sono le trazioni. Semplicemente sono un esercizio che ci dà la possibilità di lavorare tutto l'upper back e tutti i dorsali. Perché sono importanti? Perché sono una massima rappresentazione di forza del corpo umano e di quella che è la trazione, per l'appunto. Perché noi, essendo sviluppati su più piani, possiamo spingere, possiamo tirare. E questa è una delle cose più importanti che dobbiamo saper fare assolutamente se vogliamo sviluppare forza generale. Allora, ve la faccio vedere da qui. Allora, si aprono più o meno le braccia un pochino più aperte della zona dell'ampiezza delle spalle. E da qui, contraendo bene l'addome, deprimendo le scapole, quindi dopo solo aver stabilizzato bene l'omero, traziono e cerco di portare il mento, barra il naso, oltre quella che è la sbarra. Cercando di controllare più possibile il movimento, che è la parte più importante di tutti gli esercizi di forza. Quindi dobbiamo sviluppare prima una coordinazione motoria e poi cercare il più possibile di utilizzare il nostro corpo per andare su, contraendo bene i muscoli, evitando qualunque genere di slancio possibile. Perché questo in realtà creerebbe un compenso che non ci fa assolutamente allenare, anzi ci deallena. Se noi da qui facciamo questo e arrivo giù mollando completamente il corpo, non controllo la pancia, non controllo il corpo, non controllo niente, in realtà qua il mio muscolo è semplicemente in allungamento, non ha nessuna forza, niente. Si sta tenendo su ma tramite le mani. Quello che mi interessa è andare su, controllare il movimento e appena sto cercando di chiudere l'allungamento, ritornare su. Non fare cose di questo genere. Cioè non bisogna mollarsi. Esattamente, bisogna tenere il controllo totale del proprio corpo durante tutta l'alzata, che questa è la parte più importante in assoluto.